La volpe e l'uva. Una volpe un giorno vide dell'uva. L'uva sembrava buonissima. Aveva dei grappoli bellissimi, coloratissimi. Sicuramente ogni chicco d'uva sarebbe stato buonissimo. Se però la volpe avesse raggiunto l'uva. L'uva era molto alta. Salta una volta. Salta la seconda volta. Salta la terza volta. Ma la povera volpe poverina non riusciva mai a raggiungere neanche un chicco d'uva. Così ormai disperata disse. Oh, povera me, non sono riuscita neanche a mangiare un chicco di quell'uva. Ma sicuramente non è buona e acerba e per questo è che non sono riuscita a raggiungerla. Morale della favola. Chiunque spesso con grandi sforzi cerca di raggiungere un obiettivo. Una volta che non riesce a raggiungerlo lo disprezza. Ciao a tutti. Al prossimo video. Ciao ciao.